Mescolare l'aspirina con l'uovo e i risultati sul tuo viso ti stupiranno. Oggi prepareremo una ricetta che mira a lasciare la pelle del viso morbida, liscia e senza imperfezioni, come tutti sognano. Questo consiglio è molto facile da realizzare. Utilizza solo tre ingredienti che di solito abbiamo nelle nostre case. È una ricetta casalinga che potrete utilizzare senza paura di effetti collaterali indesiderati. Per iniziare, metti un'aspirina in un contenitore a tua scelta. Schiaccia l'aspirina il più possibile fino a che non è completamente frantumata. L'aspirina è un medicinale che offre diversi benefici oltre a combattere il dolore. Questo rimedio può aiutare efficacemente a ridurre acne e punti neri, grazie alla sua composizione curativa. Serve anche come esfoliante e come grande anti-infiammatorio, capace di ridurre le macchie sparse sulla pelle, come se fosse un peeling casalingo. L'aspirina può anche aiutare ad alleviare le punture di insetti. Poche persone lo sanno, ma con questo rimedio possiamo sterilizzare l'area ferita. Basta sciogliere una compressa in un cucchiaio di acqua e passare il composto sulla puntura. Dopo aver schiacciato tutta l'aspirina, trasferiscila in un altro contenitore. Il prossimo ingrediente che useremo sarà un uovo. Rompere l'uovo e aggiungere solo l'albume insieme all'aspirina. Sapevi che l'uovo è ottimo per trattare vari problemi della pelle, come le borse che spesso appaiono sotto gli occhi? Se soffri di questo problema a causa dello stress o della mancanza di sonno, questa ricetta può portarti ottimi risultati. Mescola bene gli ingredienti con l'aiuto di un cucchiaio fino a ottenere un composto completamente omogeneo. Interagisci con i nostri video affinché i nostri consigli raggiungano più persone e tutti possano trarre vantaggio da varie utilità che rendono la nostra vita più semplice. Interagire significa mettere mi piace, commentare e condividere i nostri video. Se non hai ancora interagito, metti mi piace e tagga un amico in modo che anche lui possa imparare diversi consigli salutari come quelli che ti piace guardare. L'ingrediente finale della nostra ricetta è il miele. Aggiungi uno cucchiaio pieno di miele. Mescola gli ingredienti in modo che siano distribuiti uniformemente nell'impasto. Il miele ha proprietà antisettiche e antiossidanti, che aiutano a pulire e idratare la pelle, garantendo un aspetto sano e morbido. Questo ingrediente riesce anche a bilanciare la quantità di batteri presenti sul viso, riducendo le possibilità di comparsa di acne. L'uovo, invece, tratta le rughe in modo efficace e pratico grazie ai suoi componenti che aiutano a dare fermezza al viso, prevenendo le linee di espressione e di conseguenza l'invecchiamento precoce. Quando utilizzerai questo consiglio, lava il viso con un po' di acqua tiepida e poi asciuga bene. Applica il composto con un pennello o con le dita su tutto il viso. Lascia agire per circa 30 minuti e poi rimuovi il composto con abbondante acqua corrente. Puoi farlo due volte a settimana e vedrai presto una differenza visibile nella texture della tua pelle. Spero che ti sia piaciuto. Non vedo l'ora di vederti nei nostri prossimi consigli.